Siete alla ricerca di un leader che stravolga le regole del gioco nel TCG di One Piece? Volete utilizzare un deck economico che vi dia anche la possibilità di giocare qualsiasi risorsa dalla mano, campo o cimitero senza limiti? Quale nuovo personaggio in OP-06 potrà rispondere appieno a queste esigenze? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. OP-06 è finalmente giunto sui tavoli da gioco, portando novità, come di solito succede con un set fresco di pubblicazione, sovrastate però dalla sempre più pressante presenza di Saka ed Enel, top tier indiscussi di questo meta. Ma testa di serie, a parte una rivisitata versione di Katakuri si fa notare, assieme ad un deck che personalmente reputo davvero molto divertente, perché va oltre le tipiche dinamiche di gioco che fino ad oggi siamo stati abituati a vedere, coinvolgendo attivamente ogni singola parte del terreno di gioco. Sto parlando del mazzo dei Power Rangers disegnati dal maestro Oda, che vedono come capitano la parte bella della famiglia Vinsmoke, Reiju. Nel video di oggi quindi andremo ad analizzare le dinamiche che muoveranno questo deck, scoprendo le caratteristiche che lo renderanno pericoloso nel meta attuale e quali saranno le sinergie che offrirà a tutti coloro che vorranno vestire i panni del membro della famiglia di Sanji. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto, si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti, basta un click. Per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Reiju Blue Viola. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dal leader che con i suoi 5.000 punti di forza e 4 viti a supporto vi permetterà una volta per turno, durante il vostro turno, di pescare una carta dalla cima del mazzo quando un Don tornerà nella propria pila dedicata. La decklist in questione baserà la propria strategia quindi sulla privazione delle risorse e vedrà il quartetto di Kaya, Sora, Yonji costo 2 e 4, Reiju personaggio costo 2 e 4, Ichiji costo 4, assieme al trist di Nishi costo 3 e 5, Ichiji costo 5 con il duetto di Miss Double Finger e Judge per il lato character, il trist di Germa 66 e la coppia di Black Bug per gli event e le quattro copie di Kingdom of Germa per gli stage che chiuderanno questa profile. Le carte cardini di questo mazzo saranno di sicuro le Reiju costo 4 che vi forniranno un motore di pescata non indifferente, tutti e tre i fratelli nelle loro versioni trasformate, Ichiji, soprattutto nelle fasi finali di un match, e sia il Germa 66 che il Regno dei Germa, che vi permetteranno di andare alla ricerca di risorse utili velocizzando i tempi strategici dell'intero deck. Mentre il resto, come Sora, la Miss della Baroque Quarks, Kaya e il Black Bug, andranno per i primi tre casi a fornire una protezione valida contro attacchi rivali e l'event a togliere di mezzo blocker o character o stili nullificando la loro presenza in board. Altro fattore da tenere bene a mente sarà la sinergia tra le versioni base di ogni personaggio con le rispettive evoluzioni ed il potere del leader, soprattutto ad inizio turno, dato che se avrete a disposizione una Reiju sia costo 2 che 4, iniziando per secondi avrete la possibilità di pescare tre carte, una di turno e due da effetto, avendo un vantaggio davvero non indifferente. Questo mazzo inoltre giocherà sia dalla mano che dalla pila degli scarti, infatti non dovrete farvi scrupoli nell'impiegare ogni trasformazione o come counter per salvarvi da assalti rivali o dandoli in pasto alla stage, perché i loro stati a riposo vi permetteranno di impiegarli direttamente dal cimitero. Ultimo ma non per importanza sarà il fatto che comunque potrete giocare ogni controparte potenziata presente nel mazzo pagandone semplicemente il costo, senza passare obbligatoriamente attraverso la sua versione normale. Quindi dopo aver visto l'intera lista e alcune dinamiche che la muovono, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come sempre la solita prima domanda. Come funziona questo deck? Evolvete qualsiasi cosa potrete evolvere e date fondo fino alla noia al potere del leader per avere un vantaggio carte da utilizzare nei momenti più opportuni. Questo è un deck molto semplice da giocare, ma nonostante ciò va ragionato con cura per farlo rendere al meglio. Per la fase offensiva avrete a disposizione tutte le trasformazioni che di natura andranno a dare fastidio alle vite rivali assieme a Judge, che una volta entrato in campo richiamerà a raccolta tutta la famiglia riempiendo la board in tempo zero. Per quella difensiva avrete invece le già menzionate Kaya, Sora e Miss Double Finger, assieme a Yonji costo 4, che rappresenterà l'unico blocker presente in quattro copie all'interno del deck. Trattando invece l'argomento mano iniziale, le carte must have da avere saranno di certo le Reiju sia costo 2 che 4, la stage un Germa 66 ed uno dei fratelli evoluti. Se sarà così potrete procedere tranquilli, in caso contrario mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup, questo mazzo soffrirà contro i top tier Saka ed Enel, anche se a volte li sorprenderete per la velocità di esecuzione ed il vantaggio carte che accumulerete nelle fasi inoltrate della partita. Per il resto ve la giocherete ad armi pari, quindi date gas già nell'early game per chiudere il match dominando la board avversaria. Per la win condition qui ce ne saranno due, o almeno queste sono quelle che ho testato personalmente. La prima è quella di far scendere già già al momento opportuno per avere presenza board massiccia che risulterà essere difficile da gestire per l'avversario, sfruttando attacchi e ferati nei turni successivi, o regolare le evoluzioni a seconda della situazione che vi ritroverete ad affrontare impiegando fonti diverse al bisogno, rafforzando il reparto offensivo nelle retrovie, pronto per attaccare ideologicamente se in mano avrete anche Black Bug che vi spianerà la strada verso le vite rivali. Invece le carte obbligatorie, che non potrete assolutamente sostituire con nessun altro elemento, saranno tutto il reparto v-smoke. Questo sarà il tematico di OP06, quindi escludere un membro della famiglia andrebbe a depotenziare anche lo stesso judge con event e stage annessi. Ho visto comunque altre liste giocare le queen che risulteranno perfette in sintonia con l'effetto del leader, rinchiazzando la metà degli yonji costo 4 e 2, ma questa che vi ho presentato nel contenuto odierno sarà la versione con il rapporto economico rendimento più valido ed allo stesso tempo facile da costruire. Infine, per la fase counter avrete a disposizione 10 più 2000 e 26 più 1000 che potrete utilizzare all'occorrenza tenendo bene a mente che, soprattutto per le trasformazioni, esse potranno tornare ad essere giocate dalla pila degli scarti, quindi non dubitate ad impiegarli per difendervi dagli assalti rivali. Prima di concludere volevo fornirvi qualche informazione di base in più sull'utilizzo del deck. Reju preferisce partire per seconda, proprio perché tra le sue fila avrà moltissimi drop pari, ma attenzione, per la molle di effetti don meno 1 vi ritroverete turno dopo turno ad avere un numero alternato di risorse, pari dispari, pari dispari e così via, quindi regolate ogni giocata in relazione alle carte che avrete in mano, soprattutto tenendo in considerazione l'entrata in campo di judge che, in casi critici, vi darà la possibilità di ribaltare la situazione a vostro favore. Concludendo, Reju è un deck che adoro, proprio per la sua dinamica di recupero dalla pila degli scarti, che rendono la bellezza della casa Vinsmoke un osso davvero molto duro da affrontare, proprio perché non ci sarà mai una parola fine alla possibilità che questo deck vi metterà a disposizione. E grazie anche all'effetto del leader di risorse da giocare al momento opportuno ne avrete a Iosa, portando il più delle volte all'esasperazione chiunque vi si parerà contro. E voi avete testato attivamente le dinamiche che muovono questo deck e come vi è sembrato? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.